Ciao, bentornate e bentornati. Oggi parliamo di matrici e di determinanti. Un determinante è un numero reale che si può associare a ogni matrice quadrata. Nella maggior parte dei libri di matematica, nei capitoli dedicati alle matrici, si illustrano le varie operazioni che si possono fare tra matrici e come calcolare i determinanti, ma poi non si spiega solitamente quali applicazioni possono essere fatte con questi nuovi strumenti. Ho così deciso di fare 5 video dove, senza tante pretese, faccio vedere 5 applicazioni pratiche dei determinanti. Il primo video è forse l'argomento più noto, ovvero il metodo di Kramer per risolvere i sistemi lineari. Nel secondo video vedremo come calcolare con i determinanti l'area di un triangolo note le coordinate dei vertici. Terzo video, retta passante per due punti, c'è una formula specifica per trovare la retta, ma non è semplice da ricordare. Vedremo un'altra formula che impiega i determinanti ed è molto semplice. Quarto video, molto importante, data l'equazione generale di una conica, con i determinanti si può capire, anzitutto, se una conica degenere o non degenere e poi se si tratta di una circonferenza, un ellisso, un iperbole o una parabola. Nel quinto video vediamo come calcolare il volume di parallelepipedi e tetraedri. Infine, se non ricordi come si calcola il determinante puoi trovare sempre nella playlist il video col metodo di Sarus. A breve farò anche un altro video col metodo di Laplace che è più generale. Vediamo quindi come trovare utilizzando i determinanti l'equazione di una retta passante per due punti A e B. Per farlo utilizziamo un teorema che permette di stabilire se tre punti sono o non sono allineati, che può essere considerato un'altra applicazione dei determinanti. In generale i punti P1, P2 e P3 sono allineati se e solo se questo determinante è uguale a zero, cioè il determinante della matrice che ha nella prima riga tutti uno, nella seconda riga tutte le ascisse e nella terza riga tutte le ordinate dei punti in questione. Da qui possiamo trovare la retta passante per due punti con questo semplice ragionamento. Consideriamo quindi due punti A e B di coordinate xA, yA e xB, yB. Che cos'è la retta passante per A e per B? Non è altro che il luogo geometrico dei punti P di coordinate x, y tali che P sia allineato ad A e B. Cioè sono tutti e soli i punti allineati ad A e B. E quindi l'equazione della retta è uguale all'equazione costruita ponendo questo determinante uguale a zero, cioè un determinante che ha nella prima riga tutti uno, nella seconda riga x che è l'ascissa del generico punto P e poi xA, xB e y che è la generica ordinata del punto P e poi yA e yB. A differenza di prima dove il determinante era un numero, adesso il determinante sarà un'espressione che ha x e y come variabili e ponendolo uguale a zero diventa appunto un'equazione, cioè l'equazione della retta. Vediamo un semplice esempio. Consideriamo il punto A di coordinate meno 2 meno 3 e il punto B di coordinate 2 e 4. Allora dobbiamo calcolare il determinante della matrice che è nella prima riga tutti uno, nella seconda riga x meno 2, 2, terza riga y meno 3, 4. Calcolando il determinante si ottiene questa espressione che poi semplificando e cambiando i segni per non avere troppi segni meno si ottiene 7x meno 4y più 2 uguale a zero. Per verificare che il risultato è corretto si sostituiscono le coordinate di A e di B al posto di x e y nell'equazione della retta e si vede che si ottiene 0 uguale a 0, cioè un'uguaglianza vera. Quindi i punti appartengono alla retta. Io ho terminato, ti lascio il link alla playlist su matrice dei terminanti e se il video ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale. Ciao e grazie!